Sono oltre 250.000 ogni anno i visitatori che entrano nella cappella degli Scrovegni per ammirare il capolavoro di Giotto, noto in tutto il mondo. Tutti devono però aspettare 15 minuti prima di varcarne la soglia, sottoporsi cioè a un processo di deumidificazione e depurazione dalle polveri. 15 minuti, il tempo utile a vedere un film veloce, ritmato, con un linguaggio adatto ai tempi di oggi, per raccontare il ciclo giottesco con un trailer che riesce a trasmettere particolari che l'occhio nudo non è in grado di cogliere. Consente di raggiungere con lo sguardo della telecamera momenti, angoli, simboli, segni che non si potrebbero raggiungere a vedere ad occhio libero. E quindi è un qualche cosa che è diventato un elemento di curiosità ma anche nello stesso tempo di formazione. Perché quando io entro in un posto così particolare pensi che la Cappella degli Scrovegni è un gioiello dell'arte mondiale. Giotto, così dicono gli esperti, è più conosciuto di Leonardo e anche di Raffaello. Perché ha questo simbolo dato dalla Cappella degli Scrovegni che continua a riverberare il suo nome, che continua a ricordare la sua arte, la sua cultura. E questo video che poi in realtà è un film artistico, lo chiamiamo così, consentirà alle persone che stanno aspettando di entrare di capire la Cappella da angoli visivi, da particolari che se non li vedesse attraverso il video non li potrebbe mai scoprire. Così un team di studiosi internazionali coordinati da Giuliano Pisani, uno dei massimi esperti, e un regista di esperienza come Luca Mazzieri, collaboratore di Antonioni, hanno realizzato un film raccontato dalla voce dell'attore padovano Luca Bastianello, con musica originale di Dario Vero. Immagini in alta definizione che, oltre a rivelare dettagli affascinanti degli affreschi, aprono una nuova strada. Per il Rotary Padova Est, dunque, missione compiuta.